Angelo Riffi, buongiorno. Ciao a tutti. Cosa facevi negli anni Ottanta? Ah, quelli erano gli anni che mi ubriacavo, che stavo in Piazza Verde, in via Guerrassi, in via Giuseppe Petroni. Dormivo anche al Cavaticcio, sì che era molto più brutto di adesso, e all'ex manufattura tabacchi di via Zogardino. Mi ricordo sta roba qua degli anni Ottanta. Musica ascoltata? Anche Vasco Rossi, mi ricordo.